Buonasera dal telegiornale regionale. In apertura la nuova visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Torino in occasione dei 160 anni della Corte dei Conti. La magistratura contabile è impegnata in particolare nella vigilanza sull'utilizzo dei fondi del PNRR. Il Capo dello Stato ha partecipato alla sessione inaugurale a Palazzo Madama. Caterina Cannava. Sergio Mattarella torna a Torino, questa volta per celebrare l'anniversario della Corte dei Conti. In Piazza Castello, all'ingresso di Palazzo Reale, viene accolto dalle autorità che lo accompagnano nel Salone degli Svizzeri. 160 anni da quando, era l'ottobre del 1862, la Corte dei Conti del Regno d'Italia si insediava proprio nel centro di Torino, nella sede di Via Bogino 6, poi distrutta dai bombardamenti del conflitto mondiale. La sede storica è raffigurata in uno degli omaggi donate al Presidente. Se il convegno è dedicato in due giorni all'evoluzione delle funzioni della Corte dei Conti, l'attenzione oggi è puntata concretamente sull'utilizzo, attento e responsabile, dei fondi del PNRR. Sarà proprio la magistratura contabile a vigilare sui rischi. Certo, i rischi ci sono. Rischi di infiltrazione della criminalità organizzata, rischi anche di cattivo utilizzo di questi fondi. Quindi la Corte dei Conti ovviamente deve vigilare a che ciò non avvenga. Uno dei nostri principali compiti, soprattutto per quanto riguarda le attività svolte dalle nostre procure, è quella di evitare casi di frode, di corruzione, di spreco, di cattivo uso delle risorse pubbliche. Quindi ovviamente su questo saremo molto vigili. Il momento è difficile. Tensioni geopolitiche, aumento dei prezzi possono pregiudicare le prospettive di sviluppo. Molto dipenderà dalla gestione dei fondi in arrivo dall'Europa. Il capo dello Stato ha seguito gli interventi di apertura, confermando così la piena attenzione del Quirinale al ruolo della Corte dei Conti. Poi Mattarella è ripartito per Roma. Il suo è ancora una volta un arrivederci a Torino. Potrebbe tornare in città a fine mese.